Intanto una riunione che secondo me era più che necessaria perché quando c'è una situazione di questo genere, emergenziale, che ovviamente non poteva essere prevista e che trova molti sindaci, infatti c'erano una cinquantina di sindaci oggi presenti, in maniera quindi molto diffusa sui territori, merita sempre di essere in qualche modo approfondita anche in alcuni particolari. Oggi abbiamo infatti spiegato ai sindaci anche le modalità proprio di accesso a quelle che sono delle ordinanze da mettere in campo per affrontare i problemi che sono creati a causa del maltempo, ad esempio l'ordinanza per lo smaltimento dei rifiuti di chi ha avuto danni in casa, che ha dovuto purtroppo mettere fuori mobiglia, cose che si ha in casa, questa ordinanza che consentirà il conferimento in discarica anche senza la differenzazione di questi materiali, così come avviene quando ci sono stati d'emergenza. Il tutto è legato al riconoscimento del Stato di emergenza nazionale che è già avvenuto, ora c'è un'ordinanza che va affinata nei particolari, poi c'è un'intesa tra Stato e Regione che ci consente di renderla operativa, ma sarà questione di ore, forse già domani questo avverrà. Successivamente i sindaci ci hanno chiesto come compilare anche le schede che noi abbiamo già inviato a tutti i comuni e noi gli abbiamo detto che in questa prima fase vanno dettagliate le spese cosiddette di sommorgenza, cioè dove i comuni possono già intervenire con soldi propri con la certezza che poi verranno ristorati e in questo caso si tratta di ospitalità alla popolazione che magari è stata costretta a uscire di casa, ma i casi sono pochissimi in questa situazione fortunatamente, e quelle che sono invece gli interventi effettivamente di sommorgenza, tipo una strada che è da ripristinare da una frana perché c'è una frazione isolata, o una strada che non è più percorribile e magari sono delle case in pericolo, o una frana che è al ridosso di una casa o di un servizio pubblico, un acquedotto più ad otto che una fognatura, eccetera. In questi casi i comuni possono intervenire subito con risorse proprie, ce le segnalano, ce le documentano e quelle rientrano nei 4 milioni per capirsi già stanziati dal governo. Poi ci sarà una fase successiva dove i comuni ci faranno presenti i danni avuti da attività proprie, i danni avuti da strutture pubbliche, ma i danni avuti anche da privati, quindi civili abitazioni, negozi, attività imprenditoriali, imprese, fabbriche. Sarà però quella una fase successiva, quindi si è intrapreso un percorso, anche molto celermente, noi abbiamo fatto già una serie di sopralluoghi, ma oggi l'incontro con tutti i sindaci, ottenuto lo stato d'emergenza, ecco, credo che nel giro di pochissimi giorni ci stiamo attivando nella maniera più opportuna per far fronte a questa emergenza.